Salve e bentornati. Nel contributo di oggi proveremo a parlare di un tema estremamente scottante in questo momento come l'arresto di Julian Assange e in particolare quali sono le accuse nei suoi confronti e perché questo signore è stato arrestato. Vedete chi segue questi contributi sa, qui non si insegnano verità, non si propongono fantasie, non si propone il solito discorso che ormai sta soffocando la nostra società dell'opinione e dell'ego che travalicano qualunque ragionevolezza. Qui si prova insieme in un certo senso a fare un discorso sulla base di quello che c'è perché l'esistente rivela gran parte dei suoi segreti se considerato con attenzione. Questo è il fondamento del metodo scientifico per esempio in cui si guarda un oggetto, una mela che cade e da questa mela si deriva una visione, una concezione, una teoria universale sulla caduta dei gravi. Questo atteggiamento non è valido esclusivamente per quanto riguarda l'investigazione scientifica, ma può essere senza parecchie difficoltà applicato ad altri settori, ad altri aspetti della vita umana, purché, ed è importante ribadire questo elemento, purché si impari a mettersi da parte. La gran parte dei discorsi a cui si assiste oggi, dei contributi a cui si assiste, non soltanto, attenzione, non soltanto online, online ovviamente si trovano dei microfoni aperti dove tutto appare possibile. Ma anche nelle, soprattutto direi, nelle strutture di comunicazione di massa ufficiali avviene appunto questo trionfo dell'opinione, questo trionfo del mettersi avanti, questa malattia della società contemporanea e dell'individuo, dell'essere umano contemporaneo, perché l'individuo è un passo avanti, ma si assiste appunto a questo io, 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 questo continuo proliferare di questa voce assillante che l'individuo, che l'essere umano contemporaneo percepisce nella sua, o è stato indotto a percepire, e che lo fa risuonare come quei vasi vuoti di cui parlava Platone. Per l'appunto basterebbe fare un po' di zapping, si dice, sui vari canali generalisti per accorgersi del, dello stato terrificante in cui ci si trova. Ovviamente qui c'è un paradosso, uno dei tanti, degli innumerevoli paradossi, la modernità offre paradossi ad ogni angolo, il paradosso è quello secondo cui per accorgerti di questa assurdità bisogna avere quella prospettiva che la società generalista prova ad impedire che si abbia. È un discorso difficile, è un discorso duro, è un discorso che è ancora l'antico discorso platonico, in cui Platone dice appunto che il filosofo deve curare la polis per la sua malattia, la malattia della polis. E ma come fa il filosofo a curare la malattia della polis quando appartiene ad una cerchia minoritaria che si accorge di questa malattia? È un problema grave, è un problema serio. È un problema al quale se non riusciamo a dare soluzione ci sarà la risoluzione della nostra specie. Come si fa a veicolare, a trasmettere una prospettiva culturale sul mondo e le cose quando il mondo intero, la società intera è costruita ormai per evitare che questo avvenga. Problema grave. E Assange è uno di quei tanti innumerevoli casi, forse è uno dei casi politicamente ovviamente più gravi di questo momento, in cui questa impostazione ideologica, propagandista, di stravolgimento dei fatti, di nullificazione delle idee, diciamo quello che io definisco l'apparato, beh, voi direte l'apparato lo uso, è stato usato anche da altri, però non mi dilungo sull'utilizzo che ne faccio personalmente, ma diciamo l'apparato in questo momento sta concentrando un'enormità di sforzi per evitare che il discorso, che la frattura, che la contraddizione che rappresenta il caso Assange, così come altri casi, emerga in tutta la sua spaventosa realtà, perché è una realtà spaventosa. Allora, per provare un po' ad affrontare, a capire meglio, ho pensato che sarebbe bene ripercorrere un po' le motivazioni di questa segregazione di sette anni nell'ambasciata dell'Ecuador e dell'attuale arresto e forse di conseguenze ancora peggiori per uno dei pochi eroi culturali della nostra epoca. Vedete, già qui c'è un paradosso, il fatto che in un canale in cui si trattano discorsi culturali possa essere percepito come strano il fatto che ci si occupa di un tema grave, culturalmente grave, come quello di Assange, è un'altra prova del distanziamento che si è ormai ottenuto tra il discorso culturale e la società, mentre questi due discorsi dovrebbero essere sempre insieme. Torniamo sempre a Platone, la democrazia è una paidea, se non è una paidea è qualcosa d'altro. Un regime oligarchico è una plutocrazia e tante altre cose, ma non è una democrazia, non può darsi democrazia senza paidea. Allora un intero, un enorme, immenso apparato di costruzione dell'opidione e di distruzione dell'idea è un'antipaidea. Dunque noi non viviamo in una democrazia, in delle democrazie, ma in delle antidemocrazie. E voi direte, ah ma alcuni potranno dire, ah quale iperbole. Ebbene, basta però guardarsi intorno, basta chiedere un po' alle persone in queste antidemocrazie per accorgersi come il loro principale sentimento rispetto al potere politico sia quello dell'impotenza. E non è un fatto da poco. Un cittadino in una realtà democratica dovrebbe provare ben altri sentimenti rispetto al potere che lo governa o il potere di cui è parte. Un cittadino europeo non si sente parte di questo come potrebbe del resto. E fra l'altro, quando Assange è stato portato davanti alla corte di Westminster, questo signore che l'apparato di potere chiama nomina giudice e io vi prego metterò nel video anche un link ad una breve biografia di questo signore ed anche un suo video che vi prego davvero di ascoltare per vedere come è facile a volte smascherare tutte le pretese del castello. Guardate, sembra che siamo tornati a Kafka. Questa questione di questo magistrato che ha detto delle cose orrende su Assange, già dimostrando il contrario di quella che dovrebbe essere, almeno in linea teorica, l'imparzialità del giudice di fronte all'imputato. Anche lì quanti discorsi bisognerebbe aprire di fronte alla modernità, vedete? Pensate a quello anche che è stato fatto del concetto di giustizia, di quello che viene fatta passare per giustizia. Una giustizia che così come la presunta democrazia o antidemocrazia non è più diretta ma è immediata da cosa? Da una classe di mezzo che è l'avvocatura. Guardate che questa cosa che a noi sembra assolutamente normale oggi è completamente anormale rispetto se noi colleghiamo il concetto della giustizia, della legalità alla sua origine dove non esisteva questa mediazione perché nel momento in cui c'è già una mediazione tra te e il giudice, significa cosa? Che c'è già una barriera tra te e l'autorità, tra te e lo Stato, non c'è più il rapporto diretto, il rapporto immediato da qualcuno che tu devi pagare affinché ti rappresenti. Guardate è una perversione della giustizia inimmaginabile che però a noi appare come naturale, così come tantissimi altri concetti a cui siamo stati educati e così perché così. Dicevamo questo signore, questo signor Michael Snow, che ho molti problemi quando già pronunciare i nomi di queste persone, di fronte alla difesa di Assange, l'ha ritenuta risibile aggiungendo il comportamento del signor Assange è quello di un narcisista che non riesce ad andare oltre il proprio interesse egoistico e ha negato, reputato Assange colpevole dicendo che la difesa non è riuscita a stabilire una scusa ragionevole e poi ha concluso I therefore have no hesitation to find Mr. Assange guilty. Non ho nessuna esitazione, nessuna esitazione a trovare Assange guilty. Vi prego davvero guardate il video di questo signore perché a volte un video, una parola, un discorso rivela già una faccia rivela un milione di cose, anche se anche qui ci viene oggi insegnato costantemente a non guardare più i volti, non guardare più le espressioni, le facce. Dunque, questi grandi crimini di cui è accusato Assange sono in realtà l'aver rivelato dei crimini. Assange è un testimone dei crimini del potere che viene condannato per essere testimone, per essere una persona con un senso etico, con un senso morale. Qualche giorno fa, proprio un primo video sull'argomento, risposto ad un commento, ad una richiesta in cui mi si diceva ma in realtà Assange è colpevole di aver violato il segreto postale e altre cose così. Ebbene, questo discorso non viene già fatto rispetto alla stampa. I gazzettieri quando rivelano, ad esempio, molto spesso cose che non hanno anche a che fare con le indagini in particolare, intercettazioni telefoniche e cose di questo genere. Anche quella è una violazione del segreto istruttorio e della privacy. Però questa osservazione non viene in genere fatta ai gazzettieri perché questo avviene in un contesto ufficiale ed ufficializzato. Vedete anche questo fatto che siamo stati traviati a tal punto da riconoscere le cose soltanto quando ci provengono attraverso un marchio dell'ufficialità. L'ufficialità assume tantissime forme e può essere la copertina di un libro che viene da un editore rinomato verso un libro che invece non viene da un editore rinomato, magari un'opera stampata in proprio, ritenendo quello che ha la facciata migliore più rilevante rispetto a quello che... Ma anche nei video online si vede questo fatto. Quanti video si trovano in cui gli autori mettono musiche, titoli, titoletti... E questo appare come più rilevante. Perché? Perché di nuovo, così come siamo stati disabituati a guardare le facce, siamo anche stati disabituati a guardare agli argomenti. Fatto grave. Perciò quando il giornalista, scusate, il gazzettiere, viene sul grande quotidiano nazionale e pubblica una cosa in violazione di alcune leggi, nessuno, o pochi, vedono il problema in questo. Quando invece Assange pubblica delle cose di una gravità enorme, incorrendo ovviamente in alcune violazioni, noi ce ne preoccupiamo. Perché? Vedete, questo è un vecchissimo argomento che emerge proprio in Platone. La tesi, una delle tesi di Trasimaco, il sofista Trasimaco, è quella della concordanza tra giustizia e legge. Ma se vi fosse una... un rapporto assoluto tra giustizia e legge, qualunque crimine, ad esempio dei nazisti, non sarebbe più crimine, perché era fatto in ottemperanza alle leggi del Terzo Reich. Se invece esiste, come meravigliosamente insegna Platone, una differenza tra legge e giustizia, allora è l'individuo di nuovo ad essere chiamato in causa e dire «sì, ma questo è ingiusto, anche se è legge». Che è una cosa che, vedete, quando avviene nella storia, poi noi la applaudiamo. In Italia, ad esempio, noi applaudiamo quei funzionari delle forze dell'ordine che si rifiutarono di eseguire ordini contro ordini criminali, contro i partigiani, ordini di deportazione, ma praticamente stavano violando la legge, in nome della giustizia. Perché questo concetto non ci è più chiaro? Perché noi siamo arrivati oggi interamente dentro le tesi di Trasimaco, dentro le tesi della sofistica? Perché, come dicevamo, questo enorme apparato che attacca da tutti i lati per trasformare la realtà in qualcosa d'altro. E non è soltanto l'apparato, c'è l'apparato, c'è la cooperazione, ad esempio, della cialtroneria che si esprime un po' dovunque, di quelli che con l'immaginazione vanno dove pura follia andare. Noi parliamo spesso perché a me interessano temi come la psicologia che emerge da temi come la Terra Piatta, come le Sette, come i culti, come queste assurdità non soltanto della modernità, ma in particolari della modernità. perché, appunto, è un altro aspetto della distruzione dell'idea attaccata da tutti i lati, dall'opinione, dall'immaginazione folle, dalla cialtroneria, dall'assurdità. E diventa sempre più difficile arginare questa marea, anche in virtù di un fatto, la scomparsa dei libri. Questa è un'altra cosa di cui non ci si accorge. Ma i libri, pian piano, stanno venendo sostituiti con della carta stampata, con della carta da macero. Ci sono librerie, io da qualche parte ho anche l'articolo, di una libreria danese in cui il direttore o la direttrice, questi grandi geni della cultura contemporanea, ha dichiarato che i libri che non vengono presi per la consultazione per più di due anni vengono, non ha detto venduti, vengono donati in beneficenza per l'Africa, per questi paesi. Cioè lui pensava, o lei, non ricordo, di essere bravo, di essere una persona di buon cuore. Vedete come un sistema che ormai ha perso interamente la bussola trasforma anche la buona intenzione, semmai c'è la buona intenzione. Io non lo so come si possano pensare cose così, come si possa essere direttori di librerie. Si può essere direttore di biblioteche perché appunto esiste quel sistema di vidimazioni che dice se tu prendi il mestre in library science, se la laurea in biblioeconomia puoi gestire una biblioteca. Non c'è la domanda, ma ti piacciono i libri? Ma li leggi? Dimmi dieci autori di cui vorresti parlare. Queste cose non fanno parte di questi curricula. C'è la catalogazione, c'è la cura dalle muffe, Noi non abbiamo mai vissuto un'epoca così, non l'abbiamo mai vissuta, è la prima volta che tutto questo succede. La cultura è sempre stata una forma di resistenza, come vediamo appunto in Assange. Assange è uno dei resistenti culturali della nostra epoca e sta pagando duramente per resistere per noi, nel fare qualcosa per noi, per noi tutti, mentre noi ci curiamo appunto dei nostri affari tranquilli. Io parlavo proprio qualche giorno fa con un signore e questo mi diceva sì, ma la gente pensa finché va bene, insomma ancora per me le cose vanno bene. Ma che ragionamento è? Ma questo non è neanche un ragionamento da esseri umani, gli ho detto. Questo è un ragionamento da Lemmings. Non si può... E non è un ragionamento. Attenzione, il punto grave qui è che questo ragionamento è sia parte di una certa acquiescenza di un certo tipo umano, ma è anche indotto, drammaticamente indotto, da tutto un apparato per portare l'individuo a quello stato di acquiescenza che non tralascia nulla. La distruzione dei libri o la sostituzione dei libri è una cosa, se voi ci pensate, è una cosa macchiavellicamente geniale e che avviene in tutto, non avviene soltanto con i libri. Quando io ho oligarca, che ho un potere economico vasto, voglio acquisire qualcosa che è dello Stato, cosa faccio? La distruggo prima, prendo le ferrovie, distruggo il servizio, facendo come? Pagando degli amici miei che sono nello Stato, del governo, per non finanziare potenziamenti, innovazione, tutto quello che vogliamo, dunque, quando poi in cinque anni, che è un business plan sostanzialmente, in dieci anni, quel servizio diventa quasi inutilizzabile, arrivo io il salvatore della patria, lo acquisto a prezzo scontato, per pochissimo, dunque prendo questa infrastruttura che era stata costruita a spese di tutti, me ne ha proprio, e poi dico, vedete, adesso la faccio funzionare. Funziona così dovunque, funziona anche con i libri, voglio distruggere i libri, cosa faccio? Prendo un, voglio una serie di mentecatti che scrivono cose che sono, che titillano gli appetiti di quella popolazione appunto che legge, che leggeva un tempo Carolina Invernizio, oggi legge Dacia Maraini. Prendo questi, li porto all'apice, li metto il timbro, la vidimazione della, dell'ufficialità, e inondo le librerie. Il povero libraio, che anche lui deve portare, deve pagare le bollette per la luce, deve pagare l'affitto, è costretto lentamente, anche il libraio, non soltanto le biblioteche, a sostituire il libro con la, con la cartaccia, perché la cartaccia vende. Da qualunque parte tu guardi la modernità, ci sono disastri. E Assange, scusate voi, chi segue questi contributi, sa che purtroppo bisogna anche fare un discorso prima di arrivare al punto che non si può fare come avviene appunto in questa mentalità riduttiva che oggi è predominante, di prendere tutto e trasformarlo in un riassuntino buono per non capirci nulla. Le cose purtroppo bisogna arrivarci lentamente, bisogna arrivarci da molti piani, da molti punti, che poi è uno dei cardini dell'insegnamento che oggi viene ostacolato anche lì, e l'insegnamento viene ostacolato attraverso i programmi. Guardate, da qualunque parte la vedi, vedi che c'è un intervento atto ad impedire che le idee, che il ragionamento, che il discorso, che il confronto culturale possa emergere a favore di che cosa? A favore del potere, di coloro che determinano le direzioni della modernità. Perché le determinano? Questo aprirebbe un'enorme parentesi. Dunque, Assange è fondamentale perché ci mette in condizione di dire ma scusate, ma queste cose che voi dite, o questo giudice, questo, ho detto la parola che non avrei dovuto dire, questo, 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 questo innominabile, questo innominabile che, guardate, utilizza l'accusa di narcisismo contro Assange, scusate per il riferimento, ma se qualcuno ha visto la lettura del mio saggio sull'etica oligarchica, saprà che ancora prima che questo giudice pronunciasse questa brillante sciocchezza, avevo scritto che uno degli elementi che si utilizzano oggi, uno dei tanti elementi ad hominem, è appunto l'accusa di narcisismo. E guarda caso, due settimane dopo questo signore ha confermato esattamente quella breve frase che avevo aggiunto nel saggio. Sapete, a volte è importante anche avere queste conferme, no, è sempre importante avere queste conferme perché soltanto il pazzo, il delirante, l'arrogante, il vanaglorioso vanno in giro pensando di avere sempre ragione, pensando di avere sempre capito tutto, pensando di sapere. Io non so, non ho capito e ogni tanto ho ragione. Questa è una cosa che voi non sentite perché quelli che hanno bisogno di portare avanti il loro ego, la loro la loro vanità, voi sapete, per chi conosce, per chi segue ormai questi discorsi, io ho anche problemi a presentarmi direttamente, però mi fecero notare all'epoca quando iniziai questi contributi che sembrava come se non ci volessi mettere la faccia, come si dice in italiano. Ovviamente non è così, rispondo personalmente, però infatti come vedete il canale è proprio completamente anonimo per molti versi, perché è così che deve essere, perché l'importante è portare avanti un'idea. Quando un'idea viene portata avanti questo è quello che conta per chi ha a cuore il destino della nostra specie, la sorte degli esseri umani, per quelli che invece devono andare avanti essi stessi. Qualche tempo fa ero in un locale con un amico e era una farmacia e una signora si mise davanti e questo mi diceva ma perché l'hai fatto passare avanti? Gli ha detto guarda io quando le persone fanno queste cose io non gli dico nulla e lui è rimasto un po' così dice ma allora vuol dire che tutti ti passano avanti? E fa bene. Se loro vogliono essere quel tipo di persona che lo facciano se tu vuoi essere quel tipo di persona è un tuo problema non è un mio problema anche questo è un atteggiamento che è una cosa che è difficile da capire nell'epoca del gettarsi avanti del io 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 nell'epoca dell'assurdo dunque io ho messo insieme un po' di capi alcuni tra i capi d'accusa contro Assange cosa ha fatto Assange? Assange ha mostrato un video in cui un elicottero a paci dell'aviazione americana sparava a distanza su un gruppo di 15 civili in Iraq tra cui due giornalisti dell'agenzia Reuters uccidendoli e nel video si sente l'equipaggio ridere e gridare frasi come frasi triviali brutte e the US military l'esercito americano si è rifiutato di mettere sotto processo l'equipaggio di questo elicottero dicendo che nell'area c'erano dei resistenti e dei reporter nell'area in cui quelle delle forze americane potevano subire una guarnizione ha tirato fuori una scusa quello che però Assange ha rivelato è un crimine di guerra dunque il primo caso di accusa è accusato per aver rivelato un crimine di guerra dobbiamo anche accusare quelli che hanno rivelato i crimini nazisti in Italia in Ucraina in Russia in Germania perché hanno rivelato un segreto di stato nazionalsocialista vedete come è facile far vedere far guardare attraverso la realtà delle cose è così facile basta aprire gli occhi basta fare un confronto per questo la cultura deve essere distrutta perché la cultura insegna a fare il confronto quando uno viene e vi dice questo qui è il miglior sistema politico del mondo non abbiamo mai avuto la società migliore uno dice ok possiamo leggere questo libro ma qui c'è scritto qualcosa di diverso e questo libro è stato scritto duemila anni fa come è possibile però se tu non ce l'hai il libro il primo mentecatto che viene e ti racconta una cosa va bene il primo il primo capitato il primo che vuole io 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 il primo che si vuole mettere avanti il primo che vuole i tuoi voti assangia anche altro capo d'accusa ha pubblicato un manuale che dimostrava le torture avvenute a Guantanamo e la detenzione di innocenti nell'epoca delle grandi democrazie degli stati di diritto questo è un capo d'accusa ha pubblicato dettagli sulla Trans-Pacific Partnership il TPP in particolare il capitolo sulla proprietà intellettuale e guarda caso proprio di questi giorni è l'approvazione da parte del Parlamento Europeo Long Live Democracy lunga vita alla democrazia che ha approvato l'articolo 13 che è un articolo che tende alla restrizione della libertà di parola sostanzialmente tramite l'imposizione della proprietà del diritto d'autore della proprietà intellettuale diritto d'autore dovremmo aprire qui un enorme parentesi ma lasciamola stare ora questo TPP questo accordo di Trans-Pacifico di partnership di collaborazione è un accordo ovviamente per favorire coloro che detengono i mezzi per trasportare merci per molti di questi elementi di questo accordo non si conoscevano perché persino le personalità politiche nel momento in cui io l'ho sentito questo da un'intervista in una televisione americana in cui questo ambasciatore diceva io quando sono andato a questa riunione mi hanno tolto all'uscita anche gli appunti che io avevo preso perché non si doveva sapere nulla di questo e oltre ad essere vincolato al segreto adesso non ricordo però se era un ambasciatore o un un rappresentante un diplomato comunque era un diplomatico ora perché l'economia attraverso cose come il TPP viene vista in maniera così predominante e beh questo è così perché proprio attraverso un modello economico che viene dominato il mondo si tratta di un modello che impedisce la cooperazione economica tra i popoli ma favorisce quella tra oligarchie e privatizza i ricavi lasciando i costi allo stato e dunque alla popolazione anche questo pezzo del tassello di questo modello di controllo globale che è il TPP è importante e lo dobbiamo ad Assange incriminato per averci reso edotti di una delle tante trame di una di quei tanti discorsi che avvengono dietro le quinte tra questi malati tra questi signori che si propongono come chissà cosa un altro breve inciso però mi preme ricordarlo ho notato una tra le tante cose che uno nota che anche in Italia adesso nei nei telegiornali in queste 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 presunte case dell'informazione quando si parla di miliardari russi li si chiama oligarchi quando però il miliardario è nostrano è un miliardario la stessa cosa l'avevo notata da diversi anni avviene negli Stati Uniti i russi sono oligarchi i miliardari americani sono miliardari questa è propaganda questa è pura ideologia è la trasmissione di un modello ideologico pensavo è un miliardario ed è oligarcha perché il nostro è solo miliardario eppure forse non avviene questa cosa infatti un miliardario oggi si trova alla Casa Bianca un'altra cosa gravissima terribile che ha fatto Assange ma l'ha fatta Assange quelli che l'hanno quelli che hanno compiuto l'atto come dire il mafioso che mette la bomba va bene è quello che lo denuncia il problema guardate non ci sono parole per le cose e anche per come venga tenuto una cappa dalla stampa internazionale su questo discorso il discorso su Assange non si trova quasi più la notizia ha fatto la notizia uno o due giorni scomparso i giornali la stampa parlano della modella della moglie dell'attore dell'attore in sé del personaggio così di quello che sta chiuso in una casa questo è indottrinamento non è informazione dicevamo uno dei tanti reati di Assange è stato lo scandalo della Democratic National Convention in inglese si chiama semplicemente la DNC che per favorire la Clinton che lui lo ha rivelato con la pubblicazione di 20.000 email del Partito Democratico costringendo poi il Partito Democratico ad uscire allo scoperto e dire noi non abbiamo gli obblighi di dover fare le cose come si fanno durante un'elezione ma allora perché la vendevate come un'elezione ma questa cosa si sapeva già un po' da prima se voi ricordate questo magari in Italia non è stato trasmesso perché vedete anche questo viene tutto viene tenuto nonostante nell'epoca di internet ma quando vi fu la dichiarazione dei voti che i candidati avevano preso per l'elezione del presidente ci fu una donna molto coraggiosa che dietro la rappresentante dei democratici alla DNC che quando venne interpellata la rappresentante del Rhode Island venne interpellata e disse tutti i voti del Rhode Island sono andati a Hillary Clinton lei mise un cartello dietro questa signora perché sapeva che la videocamera l'avrebbe ripresa in cui diceva non è vero solo 57 voti sono andati a Sanders credo fosse 57 comunque ebbe una persona coraggiosa una di quelle tante persone coraggiose che ci danno ancora un po' di speranza perciò già questa cosa si sapeva però ovviamente tu puoi subito delegittimare quella persona che sta dicendo la verità la puoi delegittimare immediatamente è una squilibrata è qualcuno un pazzo è facilissimo l'argomento ma dominem è vecchio come il cucco basta attaccare la persona e non curarsi più dell'argomento ma quella diceva la verità poi confermata attraverso la pubblicazione di Assange criminale grande reato Assange è quello che pubblicando altri documenti ha pubblicato attenzione non ha pubblicato semplicemente documenti sugli Stati Uniti pubblica documenti sulle malefatte delle oligarchie un po' ovunque ha pubblicato documenti sui dissidenti cinesi sullo scandalo petrolifero in Perù una sentenza del tribunale australiano segreta per imporre che la stampa non pubblicasse le notizie relative ad uno scandalo di corruzione che coinvolgeva la loro banca centrale e leader internazionali Assange è quello che ha dimostrato che il primo gabinetto di Obama è stato praticamente selezionato dalla Citibank lo scandalo fiscale operato in Inghilterra dalla Barclay gli Afghan Diaries il Stratfor email in cui un'agenzia di investigazioni privata veniva utilizzata per screditare e investigare su attivisti il progetto Vault 7 della CIA un progetto per spiare telefonini ed altri apparati elettronici ed altre violazioni della privacy per le quali nessuno è stato arrestato di tutti questi crimini che io ho citato che Assange ha portato alla luce grazie al suo team e alla pubblicazione di email e documenti nessuno è stato arrestato lunga vita la democrazia no? Assange ha anche rivelato uno di quegli aspetti io spero che potremo un giorno parlarne se il tempo non fosse così tiranno ma è quello che chiamo il franchising del ridicolo e delle sciocchezze dei culti e delle sette e ha pubblicato questo documento The Secret Bibles of Scientology in cui Ron Hubbard parla di cose di sono così ridicoli e al tempo stesso il ridicolo vedete ha un trionfo nella nostra società ha un trionfo come è possibile se noi fossimo una società che ha una solidità culturale il ridicolo di queste cose da Scientology alla Terra Piatta non potrebbe trionfare non potrebbe avere milioni di seguaci cioè già è come dire è come un sintomo di un malessere è come uno che va dal dottore e ha delle macchie rosse in faccia e il dottore gli dice no lei sta bene dice questo qui o non capisce niente di medicina oppure cieco noi siamo a questo livello questi sono sintomi di un malessere che è ben più grave questo documento ad esempio di Hubbard è una cosa terrificante una cosa di fantascienza che lui dà per vera e che c'erano 76 pianeti che orbitavano nella alieni che noi abbiamo popolato pianeti con 250 guardate è una cosa che non si può neanche leggere però su questo io mi sono preso la briga di scaricare questo questo documento che si chiama Technical Bulletins of Dynetic and Scientology e vorrei mostrarvi quello che stava una cosa su quello che stavamo dicendo prima questo è Ron Hubbard ma lo vedete che razza di deficiente voi dite che voi mi volete dire come si fa a dire che uno con una faccia così non si capisce subito che è un truffatore di un delinquente ma guardate la faccia guardate guardate il viso guardate accidenti questa roba guardate il viso guardate 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 questo guardate questo viso dobbiamo tornare ad imparare a guardare i visi a guardare alla gente dobbiamo imparare a tornare a guardare ai fatti e purtroppo ovviamente la difficoltà consiste nell'avere un apparato dietro che ti dice no tu devi guardare tutto tranne i fatti albero della conoscenza del bene del male i fatti sono diventati quello una completa inversione dalla realtà dobbiamo credere ciecamente alle inversioni del reale purché ci sia un bel timbro una bella vidimazione una bella copertina un bel video d'apertura una bella musichetta d'apertura tutto è diventato coreografia ma le persone come Assange sono quelli che guardano dietro la coreografia sono quelli che guardano dietro la tenda e noi qui proviamo sempre a parlare di questi temi o di in gran parte di queste persone che non sono soltanto oggi sono oggi erano ieri e speriamo che continueranno ad esserci perché da loro che dipende non soltanto la dignità nostra come specie ma ormai al punto in cui siamo anche la nostra sopravvivenza spero che questo contributo sia servito a qualcosa grazie